Oggi il nostro viaggio si sposta in un'altra regione, in particolar modo la regione toscana e ancora più precisamente la cittadina di Marradi, che diede i Natali a questo poeta nel 1885. Avrete sicuramente capito che il nostro protagonista di oggi è il grande Dino Campana. Campana, nella sua esistenza e nella sua poesia, sicuramente fu segnato e caratterizzato da due elementi fondamentali. Il primo è quello della follia, della malattia mentale, così come gli viene diagnosticata all'epoca e che lo colpì più o meno dall'età di 15 anni, forse anche per quel rapporto burrascoso che sempre ebbe con la madre. E l'altro elemento è stata questa vita errabonda e vagabonda in giro non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa e il resto del mondo. Dei viaggi, quelli di Campana, che sembravano essere delle fughe dalla propria città natale, da Marradi, alla quale poi però sempre tornava anche per questi continui ricoveri in manicomio, che erano considerati all'epoca la cura per la malattia che appunto gli era stata diagnosticata. Quando consideriamo quindi la poesia e la poetica di Campana, dobbiamo sempre tenere in considerazione questi due elementi, il vagabondaggio da una parte e la follia dall'altra.